L'impegno della CIA in Puglia, in Italia e in Europa. E' stato questo il tema dell'Assemblea regionale della Confederazione Italiana Agricoltori di Puglia, che si è tenuta oggi presso l'hotel Sheraton di Bari. Si è trattato di un importante appuntamento, tenutosi in un momento particolare per l'agricoltura pugliese nazionale, impegnata a definire i programmi della nuova PAC e del nuovo PSR. I consorzi di bonifica fortunatamente hanno capito, fortunatamente hanno capito perché stanno prendendo un grosso abbaglio. Perché, come ho detto nel mio intervento, quelli hanno fatto una cosa molto semplice, hanno fatto i piani di classifica, che sarebbero i costi che dovrebbero pagare i consorziati, ci hanno messo la debitoria e l'hanno spammato su tutti quanti. E' stata la cosa più semplice di questo mondo. Ma non era così, perché sono arrivate delle cartelle che sono imbarazzanti, che non li pagherà nessuno. E poi c'era tutta la questione della debitoria pregressa, che sono 15 anni, non è una cosa da poco. Allora noi, la Regione ha capito che la manutenzione straordinaria, che poi il 630 sarebbe la tenuta del territorio in sindesi, però la manutenzione straordinaria di tutto questo, dopo 15 anni, che è tutto straordinario, la deve fare la Regione, e sono il 60% dei 20 milioni di euro che loro hanno scaricato sugli agricoltori. Per questo noi pagheremo il 40%. L'impegno della Regione è anche quello di non farci pagare il pregresso e poi di rivedere i costi di gestione. L'impegno della Regione è anche quello di non farci pagare il pregresso